Salve gente, siete persone corpulente, piuttosto paffute, diciamo che siete un po' troppo robusti? Beh, diciamoci la verità, siete grossi. Quando fate jogging la strada si sfonda sotto di voi, quando fate lavoro il letto si sfascia. Gli elefanti allo zoo vi tirano le roccioline, in ascensore vi tocca sempre andare soli. Ora potete mangiare quanto volete, perché nei negozi taglie forti di Torto Melon vi copriamo noi. E l'atto, abiti di lana vergine o di mista lana, in tutte le taglie forti e fortissime. Taglie per uomini massicci, ultramassicci, nella linea grasso nascosto. E per voi, signore, abbiamo cappettani, camicioni e i nostri modelli esclusivi extra large in tutte le sfumature. Sì, abbiamo chilometri e chilometri di stoffa, quindi fidatevi di me, Torto Melon. Se volete apparire magri, trovatevi degli amici più grassi di voi. Taglie forti di Torto Melon, 150 punti vendita in tutta... Hai visto il nuovo spot, Lu? Sì, l'ho visto. E io sembravo grasso? Un paio di chili potresti perderli. Devo trovare comparsa più grasse.